. Uomini e donne, Claudio Merangolo, il messaggio dopo la scelta di Alex . Claudio Merangolo scrive un messaggio dopo la scelta di Alex a Uomini e Donne. . Quest'ultimo ha scelto Alessandro D'Amico. Una decisione un po' attesa poiché in molti avevano notato la grande sintonia che era nata con l'ormai ex corteggiatore. . Infatti, Alex ha sempre dimostrato di avere un debole per Alessandro, anche se ha condiviso questa esperienza anche con Matteo e Claudio. . Merangolo ha partecipato all'ultima puntata del Trono di Migliorini, nella quale ha scoperto di non essere la scelta di Alex. . Stando alle anticipazioni, il protagonista del Trono gay ha chiamato in studio prima Claudio, a cui ha rivelato, tra le lacrime, che non è lui la sua scelta. . Il merangolo non l'ha presa molto bene, tanto che ha deciso di lasciare subito lo studio. . Intanto, nelle ultime ore, Claudio ha scritto ai suoi attraverso Instagram. . Il merangolo ha ringraziato tutto il programma, se stesso e i suoi fan. . . . Dire grazie a tutti coloro che fanno parte di questo programma è scontato. . . Ma grazie davvero a tutti loro, alla loro professionalità e al loro essere umani. Claudio inizia così il messaggio di ringraziamento per la produzione del programma. . Ma non solo, il merangolo pensa anche alla sua persona e si dice un grazie, a me stesso dico grazie per esser stato me dall'inizio alla fine. . Senza rimpianti, senza pentimenti. . . Ho fatto conoscere il bello e il pessimo. Ovviamente non potevano mancare i ringraziamenti ai suoi fan. Grazie a tutti voi che in questa esperienza mi ci avete accompagnato e supportato con le vostre belle parole, i vostri messaggi, la vostra eleganza nel farlo e con il vostro cuore. . . I ringraziamenti di Claudio Merangolo, l'ex corteggiatore soddisfatto della sua esperienza a uomini e donne. . . Non scorderò mai una frase che porto dentro me da sempre, fatelo anche voi, nessuno è te, questo è il tuo potere. . Il mio, il vostro. Unesperienza unica quella vissuta da Claudio, il quale non si è buttato per niente giù dopo quanto accaduto della registrazione di oggi. . . Infatti, nel post aggiunge anche due hashtag, cancelletto avanti tutta e cancelletto un mondo fuori. . . Intanto, sono giunti nel programma tre nuovi tronisti e corteggiatori. . . Tra questi vi sono volti già noti nel mondo della televisione. .